Dall'intesa tra l'Unione degli Industriali di Napoli e l'Inps è nato lo sportello virtuale DURC per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva, una sorta di passaporto delle aziende per interloquire con banche e istituzioni. Un passo avanti decisivo per il mondo delle imprese in direzione della semplificazione burocratica. Sentiamo il presidente degli industriali partenopei, Costanzo Iannotti-Pecci. Questa certificazione è importante, ma non solo questo, questo nuovo modo di interfacciarci con l'Inps consentirà anche di monitorare situazioni magari critiche, prevenirle e favorire anche da questo punto di vista le migliori condizioni di operatività per le imprese. Lo sportello sarà gestito da un referente Inps e uno dell'associazione di Palazzo Partanna. Per i dettagli sentiamo Vincenzo D'Amato, direttore del coordinamento metropolitano Inps di Napoli. Oggi firmiamo un protocollo con l'Unione degli industriali che rappresenta uno strumento innovativo di colloquio e di confronto tra l'Unione degli industriali, aziende e la pubblica amministrazione, particolarmente l'Inps sul territorio, per dare la possibilità alle aziende di avere il documento di regolarità contributiva con tutto il supporto che l'Inps può offrire, quindi avendo un canale privilegiato di colloquio.